bentornati amici di business life continua il mio viaggio tra le eccellenze italiane oggi mi trovo a toringo in provincia di lucca e più precisamente nella sede dello stabilimento euro vasta e qui con me c'è il suo presidente il dottor vincenzo romano buonasera ben arrivata mi accompagna la scoperta della sua agenda con tanto piacere prego accomodiamoci qua arrivano i rotoli grandi dalle cattiere che sono cinque qua abbiamo due linee per la produzione di carta igienica asciuga tutto e abbiamo anche delle linee per la produzione di tovaglioli qua facciamo anche la tovaglietta che abbiamo brevettato in questo stabilimento si trasforma il rotolo gigante che facciamo in cartiera le bobine in articoli di vari tipi vengono decorati profumati e lavorate poi abbiamo un altro stabilimento come questo a borgo a mozzana sociglia e un altro a capannori poi so che avete qualcosa anche all'estero si all'estero abbiamo due stabilimenti il primo abbiamo aperto tre anni fa liverpool in inghilterra dove avevamo già dei clienti e nel nostro settore la logistica ha un peso importante e per questo che abbiamo realizzato questo stabilimento per essere più vicino a questi clienti importantissimi l'altro stabilimento in olanda vicino in dove naos è bellissimo perché l'ultimo che è nato e li abbiamo già due linee abbiamo già raddoppiato l'investimento devo dire che io ho comprato aziende a lucca che erano già esistenti che andavano male e la prima cosa che ho fatto sempre parlare agli uomini è difficile fare impresa diventa impossibile se non c'è un progetto coinvolgere gli uomini coinvolgere le risorse umane fondamentale per la qualità per il servizio poi le macchine certamente fanno la grandissima loro parte però io per i miei uomini farebbe qualsiasi cosa quanti turni fate ma queste linee praticamente fermano due volte l'anno o tre al massimo quando lavorano sempre noi diciamo quattro due quattro turni di lavoro e due di riposo ininterrottamente il sabato la domenica le festività eccetera tutti gli stabilimenti sia le cartiere che convertiti mi parli un po degli investimenti futuri ma diciamo io le parlerei degli investimenti di quest'anno che dobbiamo proprio domani cominciamo ad avviare una macchina continua che abbiamo installato nuova con un investimento di circa 13 milioni a villa basilica questa macchina nuova oltre a produrre chiaramente più quantità consuma meno energia meno gas quindi ha un imbatto ambientale molto più basso e ha la possibilità di realizzare dei prodotti di alta qualità che un po la nostra mission e oggi cosa deve fare Eurovac deve migliorare tutto ciò che sono i prodotti al massimo per dare una soddisfazione maggiore alle esigenze dei nostri consumatori e questo è quello che faremo sempre alla ricerca di migliorare sia le qualità dei prodotti indubbiamente per rispondere a nuove esigenze ma soprattutto per migliorare la qualità della vita dei miei collaboratori dottor romano mi racconti la storia della sua azienda la storia di Eurovast per raccontare tutta la storia di Eurovast che è la più bella storia della mia vita dovrei veramente avere molto tempo saremo proprio i punti più essenziali diciamo delle date 72 18 anni prima linea in Sicilia 91 prima affare prima acquisto in Lucca il mio fornitore che era andato male io avevo voglia di venire su Lucca è la patria della carta ho preso questa prima azienda ho ristrutturato per quelle possibilità che avevo poi ho preso la seconda per la terza per la quarta oggi siamo 250 dipendenti e abbiamo che io orgogliosamente chiamo i miei compagni di viaggio e poi abbiamo cinque converting tra Italia estero cinque quartiere e diciamo che quest'anno abbiamo già un budget che supera i 200 milioni di euro di ricavi e abbiamo 250 dipendenti e personalmente sono molto orgogliosi e dalla storia del passato parliamo ora di futuro e ne vorrei parlare con Umberto Romano che è direttore generale di Eurovast parlare dopo il nostro presidente non è mai una cosa semplice per nessuno quindi comunque il futuro nostro si basa sempre su quello che è oggi l'attuale quindi con i principi che hanno fatto crescere ogni anno Eurovast che sono sicuramente la lealtà la qualità e la trasparenza verso i nostri consumatori e i nostri clienti il futuro ci vede sicuramente protagonisti perché abbiamo ogni anno ha cresciuto il nostro team che collabora all'interno delle nostre aziende naturalmente con figure più giovani con nuovi ingressi in azienda in Italia si parla sempre di problemi disoccupazioni giovani che vadano all'estero e tutto invece io mi sento di dire a tutti che in Italia esistono delle realtà non solo la nostra ma tante altre realtà che credono ancora nei giovani italiani che credono ancora nello sviluppo dell'Italia e dell'Italia che lavora non a caso noi nei nostri due stabilimenti all'estero abbiamo più del 50 per cento del personale che ci lavora che è di origine italiana il quid che abbiamo noi come italiani come inventiva come passione nel lavoro come occhio lungo un po' su tutto viene apprezzato e ritengo che sia quel valore che all'interno delle aziende porta le aziende a fare quel salto di qualità perché se tutto fosse basato su numeri o su procedure da svolgere tutte le aziende saremmo nella stessa fila e quel valore in più ce lo fanno dare, lo riceviamo grazie ai nostri collaboratori per quella passione che ci mettono Quali sono i prodotti di punta? Le parlo dell'ultimo nato che è il prodotto col brand Suprema In questo prodotto abbiamo fatto un concentrato di tutto il nostro staff ricerca e sviluppo, qualità, marketing tutto parte dal packaging che è un packaging biodegradabile o completamente in carta craft e dalla goffratura che è una goffratura quilted All'inizio proprio in cartiera è stata formulata una ricetta ad hoc con ingredienti segreti per far sì che questa carta sia il miglior risultato dell'azienda Eurovast per posizionarsi sul mercato del PRI Ingegner Capiferri, ci parli delle certificazioni di Eurovast e anche della tracciabilità Eurovast è un sistema di gestione della qualità integrato che comprende quindi anche ambiente e sicurezza conforme alle più recenti normative ISO 9001, 14001 e 45001 Inoltre aderiamo allo standard IFS riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative che si occupa di promuovere e rafforzare la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura Quindi come garantiamo la qualità e la sicurezza al nostro cliente? La garantiamo attraverso il nostro sistema di tracciabilità che è in grado di individuare dove abbiamo inviato ogni singola confezione da noi prodotta e a ritroso anche quindi a capire che materie prime abbiamo utilizzato come ad esempio colle, inchiostri, profumi, imballi così come la cellulosa utilizzata per produrre ogni singola bobina Siamo in grado anche di capire quando è stato prodotto quindi quando è stato stoccato per quanto tempo è rimasto a stock e di capire quindi tutto il ciclo di vita della confezione che viene consegnata al cliente Io ringrazio il Presidente di Eurovast Grazie, grazie a voi, grazie Grazie a lei Per l'attenzione riservata E sappiamo molto di più sulla carta a questo punto E ringrazio anche i nostri spettatori per averci seguito Vi ricordo che potete continuare a farlo su Facebook, Twitter ed Instagram Mentre se volete partecipare al programma potrete scrivere a redazionechiocciola business24tv.it Grazie e alla prossima Ciao Ciao